2 novembre, commemorazione dei defunti. Non vogliamo, fratelli, che ignoriate la condizione di quelli che dormono nel Signore affinché non siate tristi come quelli che non hanno speranza. La Chiesa ha oggi lo stesso desiderio che aveva l'Apostolo quando scriveva ai primi cristiani. La verità a riguardo dei morti mette in mirabile luce l'accordo della giustizia e della bontà in Dio, sicché anche i cuori più duri non resistono alla caritatevole pietà che questo accordo ispira e nello stesso tempo offre la più dolce delle consolazioni al lutto di quelli che piangono. Se la fede ci insegna che esiste un purgatorio dove i peccati da espiare costringono i nostri cari, ci insegna anche che noi possiamo essere loro di aiuto ed è teologicamente certo che la loro liberazione più o meno sollecita è nelle nostre mani. Ricordiamo qui qualche principio di natura per chiarire la dottrina. L'espiazione del peccato Ogni peccato causa al peccatore due danni perché insudice l'anima e rende passibile di castigo. Dal peccato veniale, che implica un semplice disgusto del Signore e la cui espiazione dura soltanto qualche tempo, si arriva alla colpa mortale che implica difformità e rende il colpevole oggetto di abominio davanti a Dio, sicché la sanzione non può essere che un bando eterno se l'uomo non previene col pentimento in questa vita, la sentenza irrevocabile. Però, anche cancellando il peccato mortale, si evita la dannazione, ma non ogni debito del peccatore è sempre cancellato. È vero che un'eccezionale sovrabbondanza di grazia sul prodigo può talvolta, come avviene regolarmente nel battesimo e nel martirio, sommergere nell'abisso dell'oblio divino anche l'ultima traccia del peccato, ma è cosa normale che, in questa vita o nell'altra, la giustizia sia soddisfatta per ogni peccato. Il merito In opposizione al peccato, qualsiasi atto di virtù porta al giusto un doppio profitto, merita per l'anima un nuovo grado di grazia e soddisfa per la pena dovuta per i peccati passati nella misura di una giusta equivalenza che, davanti a Dio, spetta alla fatica, alla privazione, alla prova accettata, alla libera sofferenza di uno dei membri del suo figlio prediletto. Ora, mentre il merito non si può cedere e resta cosa personale di chi lo acquista, la soddisfazione si presta a spirituali transazioni come moneta di scambio, potendo Dio accettarla come acconto o come saldo in favore di altri. Chi è disposto a cedere può essere di questo mondo o dell'altro, alla sola condizione che chi cede deve lui pure, in forza della grazia, far parte del corpo mistico del Signore che è unito nella carità. Come spiega Suarez nel Trattato dei suffragi, tutto ciò è conseguenza del mistero della comunione dei santi manifestato in questo giorno. Penso che questa soddisfazione dei vivi per i morti vale in giustizia, s. simpliciter de giustizia, ed è accettata secondo tutto il suo valore e secondo l'intenzione di colui che l'applica, sicché, per esempio, se la soddisfazione che deriva dal mio atto osservata per me mi valesse in giustizia la remissione di quattro gradi di purgatorio, ne rimette altrettanti all'anima per la quale mi piace offrirla. Le indulgenze È noto come la Chiesa, in questo secondo il desiderio dei suoi figli e con la pratica delle indulgenze, metta a disposizione della loro carità un tesoro inesauribile, al quale di epoca in epoca le soddisfazioni sovrabbondanti dei santi si aggiungono a quelle dei martiri, a quelle di Maria Santissima e alla riserva infinita delle sofferenze del Signore. Quasi sempre la Chiesa permette che queste remissioni di pena concesse col suo potere diretto ai viventi siano applicate ai morti che non appartengono più alla sua giurisdizione per modo di suffragio nel modo cioè che abbiamo veduto. Per cui ogni fedele può offrire a Dio che lo accetta il suffragio o soccorso delle proprie soddisfazioni. È sempre la dottrina di Suarez il quale insegna pure che l'indulgenza ceduta ai defunti nulla perde dell'efficacia e del valore che avrebbe per noi che siamo ancora in vita. Le indulgenze ci sono offerte dappertutto e in tutte le forme e dobbiamo saper utilizzare questo tesoro ottenendo misericordia alle anime in pena. Vi è miseria più toccante della loro? È così pungente che nessuna miseria della terra l'uguaglia e tuttavia così degna che nessun lamento turba il fiume di fuoco che nel suo corso impercettibile le trascina poco a poco all'oceano del paradiso. Per esse il cielo è impotente perché in cielo non si merita più e Dio stesso, infinitamente buono ma infinitamente giusto, non può concedere la liberazione se non hanno integralmente pagato il debito che le ha seguite oltre il mondo della prova. E il debito forse fu contratto per causa nostra, forse insieme con noi e le anime si volgono a noi che continuiamo a sognare i piaceri mentre esse bruciano e potremmo con facilità abbreviare i loro tormenti. Abbiate pietà di me, abbiate pietà di me almeno voi che siete miei amici perché la mano del Signore mi ha raggiunto. La preghiera per le anime del purgatorio. Lo Spirito Santo non si contenta oggi di conservare lo zelo delle vecchie confraternite che nella Chiesa si propongono il suffragio dei trapassati, quasi che il purgatorio, rigurgiti più che mai per l'affluenza di moltitudini precipitate in esso ogni giorno dalla mondanità del secolo e forse per l'approssimarsi del rendiconto finale e universale che chiuderà i tempi. Suscita infatti nuove associazioni e anche famiglie religiose con l'unico compito di promuovere in ogni maniera la liberazione o il sollievo delle anime sofferenti. In quest'opera di nuova redenzione dei prigionieri vi sono cristiani che si espongono e si offrono a prendere sopra se stessi le catene dei fratelli, rinunciando totalmente, come a tale scopo è consentito, non solo alle proprie soddisfazioni, ma anche ai suffragi che potessero ricevere dopo la morte. Atto eroico di carità a questo che non deve essere compiuto senza riflessione, ma che la Chiesa prova perché molto glorifica il Signore e perché il rischio che si corre di un ritardo temporaneo nella felicità eterna merita al suo autore di essere per sempre più vicino a Dio, in terra con la grazia e in cielo con la gloria. Se i suffragi del semplice fedele sono così preziosi, sono molto più preziosi quelli della Chiesa intera nella solennità della preghiera pubblica e nell'oblazione dell'augusto sacrificio in cui Dio soddisfa a se stesso per ogni peccato degli uomini. Come già la sinagoga, la Chiesa, fin dalla sua origine, ha pregato per i morti. Mentre onorava con azione di grazia i suoi figli martiri nell'anniversario del loro martirio, ricordava con suppliche l'anniversario della morte degli altri suoi figli che potevano non essere ancora giunti al cielo. Nei sacri misteri preannunciava quotidianamente il nome degli uni e degli altri col doppio scopo di lode e di supplica e allo stesso modo, non potendo ricordare in ogni Chiesa particolare tutti i beati del mondo intero, tutti li comprendeva in un unico ricordo così, dopo la comandazione relativa al giorno e al luogo, ricordava i morti in generale. Chi non aveva parenti né amici, osserva Sant'Agostino, non restava privo di suffragi perché riceveva per ovviare alla loro mancanza le tenerezze della madre comune. Sant'Odilone Siccome la Chiesa aveva sempre seguito la stessa linea nel ricordare i beati e i morti, era da prevedersi che l'istituzione di una festa di tutti i santi avrebbe portato con sé l'attuale commemorazione dei defunti. Nel 998, secondo la cronaca di Sigeberto di Genblux, l'abate di Cluny, Sant'Odilone, la istitui in tutti i monasteri da lui dipendenti, stabilendo che fosse sempre celebrato il giorno dopo la festa dei santi. Egli rispondeva così alle rampogne dell'inferno che, con visioni che troviamo ricordate nella sua vita, accusava lui e i suoi monaci di essere i più intrepidi soccorritori di anime che le potenze dell'abisso avessero a tenere nel luogo di espiazione. Il mondo applaudì al decreto di Santo Dilone, Roma lo adottò e divenne legge per tutta la Chiesa Latina. I greci fanno una prima commemorazione dei morti nella vigilia della nostra domenica di Sessagesima, che per essi è di fine carnevale o di apocreos, nella quale ricordano la seconda venuta del Signore. Essi danno il nome di sabato delle anime a quel giorno e al sabato precedente la Pentecoste, in cui di nuovo pregano solennemente per tutti i morti. La Chiesa romana raddoppiava una volta in questo giorno la fatica del suo quotidiano servizio verso la Maestà Divina. Il ricordo dei morti non escludeva l'ottava dei santi e faceva precedere all'ufficio dei morti l'ufficio del secondo giorno dell'ottava. Recitata a terza di ogni santi, si celebrava la messa corrispondente e solo dopo nona dello stesso ufficio si celebrava il sacrificio dell'altare per i defunti. Oggi la Chiesa consacra loro tutta la giornata. Quanto all'obbligo di considerare di precetto nel giorno delle anime, gli usi erano diversi. In Inghilterra il giorno era di mezzo precetto e i lavori più necessari erano permessi. In molti altri luoghi il precetto terminava a mezzogiorno. In altri era prescritta soltanto l'assistenza alla messa. Parigi osservò per qualche tempo la festa come una di quelle di primaria obbligazione e nel 1673 l'arcivesco Francesco de Arlai prescriveva ancora di osservare il precetto fino a mezzogiorno. Ora anche a Roma il precetto più non esiste. Epistola 1 Corinti 15 51 57 Fratelli ecco vi annuncio un mistero. Non tutti certo moriremo ma tutti saremo trasformati in un attimo in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba. Suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. È infatti necessario che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità si compirà la parola della scrittura. La morte è stata ingoiata nella vittoria. Dov'è o morte la tua vittoria? Dov'è o morte il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Rendiamo grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Morte e risurrezione Mentre l'anima uscita dalla vita presente supplisce nel purgatorio l'insufficienza delle sue spiazioni, il corpo che ha abbandonato ritorna alla terra in esecuzione della sentenza e inflitta da Damo e alla sua discendenza all'inizio del mondo. Ma la giustizia è anche amore per il corpo del fedele come lo è per l'anima. L'umiliazione del sepolcro è giusto castigo del primo peccato ma San Paolo ci fa vedere in questo ritorno dell'uomo al fango dal quale è stato tratto una seminagione necessaria alla trasformazione del grano predestinato che deve un giorno riprendere vita in condizioni ben diverse. In effetti la carne e il sangue non potrebbero possedere il regno di Dio né potrebbero gli organi destinati a dissolversi e raggiungere l'immortalità. Frumento di Cristo secondo l'espressione di Ignazio di Antiochia il corpo dei cristiani è gettato nel solco della tomba per lasciarvi alla corruzione la forma del primo Adamo con il suo peso e le sue infermità ma per virtù del nuovo Adamo che lo riforma a propria immagine dalla tomba uscirà tutto celeste spiritualizzato agile impassibile e glorioso. Onore a colui che volle morire come noi per distruggere la morte e fare della sua vittoria la nostra vittoria. Una volta la chiesa non escludeva l'alleluia nelle funzioni funebre dei suoi figli ed esprimeva con esso la sua allegrezza che trova il motivo nella speranza che una morte santa ha assicurato al cielo un nuovo letto anche se il cristiano per il quale la prova della vita è terminata debba per qualche tempo prolungare la sua spiazione. L'adattamento della liturgia nei morti ai riti degli ultimi giorni della settimana santa modificò l'uso antico e parve allora che la sequenza sviluppò festivo e all'origine seguito dell'alleluia non potesse conservare il suo posto nella messa per i defunti. Roma tuttavia questo riguardo faceva una eccezione alle regole tradizionali in favore del poema attribuito a torto a Tommaso d'Acelano. Il dies ire cantato in Italia fin dal secolo quattordicesimo nel sedicesimo fu adottato da tutta la chiesa. Sequenza Giorno dell'ira sarà quel giorno quando il mondo finirà in cenere secondo la profezia di Davide e della Sibilla. Quanto tremore ci sarà quando il giudice sovrano verrà ed esaminerà severamente ogni cosa. La tromba spargerà gran suono sui sepolcri di ogni luogo radunando tutti innanzi al trono. La morte e la natura stupiranno a risorgere di ogni creatura per rispondere al giudice. Il libro scritto sarà aperto in esso tutto è già scritto perché il mondo risponde al giudizio. Quando il giudice sarà assiso suo seggio ogni cosa nascosta apparirà niente rimarrà impunito. Allora io misero che dirò? Quale difensore chiamerò se neppure il giusto sarà sicuro? Ora è di tremenda maestà che i meritevoli salvi per la tua gratuita misericordia o fonte di pietà salvami. Ricordati o buon Gesù che sono la causa del tuo venire nel mondo non lasciarmi perire in quel giorno. Per cercarmi ti sei affaticato, per riscattarmi moristi sulla croce. Tanto travaglio non sia inutile. Giudice e castigatore giusto concedimi il perdono prima del supremo rendiconto. Gemmo per quanto sono colpevole. La colpa arrossa al volto mio. Perdonami te ne supplico Dio. O tu che non hai condannato Maria Maddalena e che hai esaudito il ladrone hai donato anche a me la speranza. Le mie preghiere sono indegne ma tu buono sì benigno chi io non arda nel fuoco eterno. Tra gli agnelli fammi posto e separami dai capri ponendomi alla tua destra. Saranno confutati i maledetti, saranno destinate le fiamme ma chiama me tra i benedetti. Supplicante e prostrato ti prego col cuore contrito e incenerito curati di me nel momento della mia fine. Giorno di pianto quello sarà quando il reo risorgerà dal fuoco per essere giudicato. Allora o Dio abbi pietà di lui donagli il riposo eterno o Signore buon Gesù. Amen. Vangelo Giovanni 5 25 30. In quel tempo disse Gesù alla folla dei giudei in verità in verità vi dico che è venuto il momento ed è questo in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Infatti come il padre ha la vita in sé così ha concesso anche al figlio di avere la vita in sé e gli ha dato il potere di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di ciò poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del figlio di Dio e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti invece fecero il male per una risurrezione di condanna. La voce del giudice. Il purgatorio non è eterno e la sentenza del giudizio particolare che segue subito la morte varia in modo infinito quanto alla durata. Può durare per secoli per anime particolarmente colpevoli o per anime che essendo escluse dalla comunione della chiesa cattolica restano prive dei suffragi della chiesa stessa sebbene la misericordia di Dio le abbia strappate all'inferno. Tuttavia la fine del mondo e di quanto esiste nel tempo deve porre fine all'espiazione temporanea e Dio saprà conciliare la sua giustizia e la sua grazia per la purificazione degli ultimi uomini e supplire con l'intensità della pena espiatrice a quanto potrebbe mancare nella durata. Per quanto riguarda il corpo la sentenza del giudizio particolare è sospensiva e dilatoria e lascerà il corpo del giusto come quello del reprovo alla comune sorte della tomba. Il giudizio finale invece avrà carattere definitivo e registerà per il cielo o per l'inferno soltanto settenze assolute immediatamente e totalmente esecutorie. Viviamo dunque nell'attesa dell'ora solenne in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio. Colui che deve venire verrà. Non può tardare ci ricorda il dottore delle genti. Il suo giorno verrà all'improvviso come un ladro ci dicono come lui il principe degli apostoli e Giovanni il prediletto facendo eco alla parola del Signore stesso come il lampo esce dall'oriente e brilla già fino all'occidente così sarà l'arrivo del figlio dell'uomo. Facciamo nostri sentimenti che ispira l'offertorio dei defunti. Sebbene l'eterna abbiatitudine resti finalmente assicurata alle anime purganti ed esse abbiano di questa coscienza il cammino ancora più o meno lungo che li conduce al cielo. Si apre tuttavia nel pericolo di un supremo assalto diabolico e nell'angoscia del giudizio. La Chiesa estendendo la sua preghiera a tutte le tappe di questa via dolorosa non si preoccupa di custodirne l'inizio e non ha paura di mostrarsi qui tardiva. Per Dio che con uno sguardo solo abbraccia tutti i tempi la tua supplica di oggi già presente all'ora del terribile passaggio procura alle anime il soccorso implorato. Questa supplica le segue nelle peripezie della lotta contro le potenze dell'abisso quando Dio permette che esse pure servano la sua giustizia per espiazione come più volte hanno sperimentato i santi. In questo momento solenne in cui la Chiesa offre i suoi doni per l'augusto e onnipotente sacrificio moltiplichiamo anche noi le nostre preghiere per i defunti. Imploriamo la loro liberazione dalle fauci del leone otteniamo dal glorioso arcangelo preposto al paradiso appoggio delle anime all'uscita da questo mondo loro guida inviata da Dio antifona e responsorio della festa di San Michele che le conduca alla luce alla vita a Dio promesso come ricompensa ai credenti nella persona di Abramo loro padre. Le tre messe abbiamo dato il solo testo della messa per tutti i defunti e ciascuno potrà trovare nel suo messale il testo delle altre due messe. I sacerdoti possono infatti dal 1915 celebrare tre messe grazie alla pietà di Benedetto XV. Una delle messe è lasciata all'intenzione del celebrante, la seconda è celebrata secondo le intenzioni del papa e la terza per tutti i fedeli defunti. L'intenzione di Benedetto XV era di venire in soccorso con questa generosità non solo a quelli che cadevano a migliaia sui campi di battaglia durante la guerra ma anche alle anime che avevano visto le loro fondazioni di messe spogliate dalla rivoluzione e dalla confisca dei beni ecclesiastici. Più recentemente Pio XI accordò una indulgenza plenaria applicabile alle anime del purgatorio per la visita al cimitero il 2 novembre e ciascuno degli otto giorni seguenti a condizione che sia fatta una preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice. Alla sera. I Vespri dei morti. Eloquenza e scienza non raggiungeranno mai l'altezza e la potenza di supplica che regnano nell'ufficio dei morti. Solo la chiesa conosce i segreti dell'altra vita e la via del cuore di Cristo. Solo la madre può avere il tatto supremo che le permette di consolare gli orfani, gli abbandonati, quelli che sono rimasti sulla terra in lacrimi alleggerendo la purificazione dolorosa ai figli che l'hanno lasciata. Primo salmo di Lexi. Il primo canto del purgatorio è un canto di amore. Le angosce di quaggiù sono finite, sono lontani i pericoli dell'inferno e confermati in grazia l'anima non pecca più e ha in sé soltanto riconoscenza per la misericordia che l'ha salvata, per la giustizia che la purifica e la rende degna di Dio. Il suo stato di quiete assoluta e di attesa fiduciosa è tale che la chiesa lo chiama un sonno di pace, canone della messa. Piacere a Dio un giorno senza riserve. Separata dal corpo che l'appesantiva, la distraeva con mille futili preoccupazioni, l'anima si immerge in questa unica aspirazione e converge tutte le sue energie, tutti i tormenti, dei quali ringrazia il cielo perché aiuta la sua debolezza a soddisfare tale aspirazione. O crogiolo benedetto nel quale si consumano i resti del peccato in cui si paga ogni debito. Dalle sue fiamme soccorritrici, sparita ogni traccia dell'antica sozzura, l'anima piglierà il volo verso lo sposo veramente felice, sicura che le compiacenze del diletto non avranno per essa limitazioni. Secondo Salmo, come però si prolunga il suo usilio doloroso? Se è in comunione con gli abitanti del cielo per mezzo della carità, il fuoco che la castiga non è materialmente diverso da quello dell'inferno. Il suo soggiorno confina con quello dei maledetti, deve sopportare la vicinanza del cedar infernale, dei nemici di ogni pace, dei demoni che perseguitarono la sua vita mortale con assalti, con insidie, che al tribunale di Dio ancora l'accusavano con bocche ingannatrici. La chiesa si appresta a supplicare, strappatela alle porte dell'inferno. Terzo Salmo, tuttavia l'anima non vi è meno, e levando i suoi occhi verso le montagne, sa che può contare sul Signore, che non è abbandonata dal cielo che l'attende, né dalla chiesa nella quale è figlia. Per quanto sia vicino alla regione del pianto eterno, il purgatorio in cui giustizia e pace si abbracciano non è inaccessibile agli angeli. Questi augusti messaggeri portano il conforto di divine comunicazioni alle quali si aggiunge l'eco delle preghiere dei beati e dei suffragi della terra. L'anima è ormai sovrabbondantemente assicurata che solo male il peccato non la può più toccare. Quarto Salmo. L'uso del popolo cristiano dedica la preghiera per i morti il Salmo 129-130. In modo particolare è un grido di angoscia e nello stesso tempo di speranza. La privazione cui sono sottoposti e le anime del purgatorio devono toccare profondamente il nostro cuore. Non hanno ancora raggiunto il cielo ma ormai hanno cessato di appartenere alla terra e hanno conciò perduto i favori con i quali Dio compensa i pericoli del viaggio in questo mondo di prove e, per quanto siano perfetti i loro atti di amore, di fede e di speranza, esse non meritano più. Dalle sofferenze che, accettate come sono, verrebbero a noi la ricompensa di mille martiri, nulla rimane a queste anime, nulla fuorché il fatto del regolamento di un conto che la sentenza del giudice ha appurato. Come non possono meritare, non possono neppure soddisfare come noi alla giustizia per mezzo di equivalenze da Dio accettate. La loro impotenza a giovare a se stesse è più radicale di quella del paralitico di Bezaida, perché la piscina della salvezza la possiede la terra con l'augusto sacrificio, i sacramenti e l'uso delle chiavi onipotenti affidate alla chiesa. Ora, la chiesa, che non ha più giurisdizione su di esse, conserva però la sua tenerezza di madre e la sua potenza presso lo sposo non è diminuita e quindi fa sue le loro preghiere, apre tesori che la sovrabbondante redenzione del Signore le ha procurati, paga con il suo fondo totale colui che le ha costituito il fondo stesso perché liberi le animi o allevi le loro pene e in questo modo, senza ledere alcun diritto, la misericordia si apre il passo e raggiunge l'abisso in cui regnava soltanto la giustizia. Quinto Salmo Ti loderò perché mi hai esaudito. La chiesa non prega mai in vano e l'ultimo salmo dice la sua riconoscenza e la riconoscenza delle anime che l'ufficio che sta per terminare ha liberate dall'abisso o perlomeno avvicinate al cielo. Grazie a quell'ufficio, e cioè alla chiesa, più d'una delle anime ancora prigioniere è entrata nella luce. Seguiamo col pensiero e con il cuore i nuovi eletti che sorridendo e ringraziando noi, loro fratelli o figli, si elevano radiosi dalla regione delle ombre e cantano Ti glorificerò, Signore, davanti agli angeli. Ti adorerò finalmente nel tuo santo tempio. No, il Signore non disprezza le opere delle sue mani. Il Magnificat Ma siccome ogni grazia di Gesù in questo mondo ci viene per mezzo di Maria, oltre la vita mortale ancora per Maria si compie ogni liberazione e si ottiene ogni beneficio. Dove si estende la redenzione del figlio, si esercita l'impero della madre. Le visioni dei santi ce la mostrano veramente regina nel purgatorio, sia che vi si faccia benignamente rappresentare dagli angeli della sua corte, o si degni di penetrare lei stessa sotto le oscure volte, come l'aurora del giorno che non ha fine, per spargervi abbondante la rugiada del mattino. Mancherà forse la neve nel Libano, dice lo Spirito Santo, alla pietra del deserto? E chi impedirà alle fresche acque di scendere alla vallata? Comprendiamo ora il perché del canto del Magnificat all'Ufficio dei Defunti. È l'omaggio delle anime che arrivano in cielo, è la dolce speranza di quelle che restano ancora nel luogo di espiazione. Conclusione. Ogni anima si raccoglie così nel culto delle persone più care e dei più nobili ricordi. È la festa dei nostri cari morti e prestiamo allora l'orecchio alla loro voce che di campanile in campanile in tutto il mondo cristiano si fa supplichevole e dolce in queste prime notti di novembre. Per tutto l'ottavario facciamo la visita delle tombe in cui riposano in pace i loro resti mortali. Preghiamo per loro e preghiamoli. Non abbiamo paura di parlare con essi degli interessi che davanti a Dio loro furono cari perché Dio li ama e per una specie di soddisfazione alla sua bontà le ascolta meglio, si implorano per altri, mentre la sua giustizia li mantiene in una condizione di assoluta impotenza per se stessi.